Buongiorno, sono Claudio Piranir, CSR Manager del gruppo ERG. Il gruppo ERG è un produttore indipendente di energia elettrica da fonti rinnovabili, energia eolica, energia idroelettrica e solare e abbiamo anche un impianto power in Sicilia. La nostra diffusione territoriale è in Italia, in Francia e Germania e in altri paesi europei con prospettive di sviluppo, prevalentemente in Inghilterra, Francia e Germania. Parlando della dichiarazione non finanziaria che ha portato a valore assoluto per i grandi gruppi di quello che una volta era una rendicontazione di carattere volontario rappresentata dal rapporto di sostenibilità, diciamo che il gruppo ERG ha tratto e ha capitalizzato come beneficio di un'attività che ormai portava avanti da dieci anni. Noi abbiamo redatto dieci edizioni del rapporto di sostenibilità, l'undicesima, neanche parla apposta, è stata proprio la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario. Tieniamo molto importante questo riconoscimento a titolo legislativo perché vuol dire che effettivamente quelle informazioni che noi già, ripeto, volontariamente, precedentemente davamo ai nostri stakeholder sono effettivamente delle informazioni rilevanti per i nostri interlocutori e conseguentemente è opportuno che gruppi così importanti quali sono, quale ERG e tutti i nostri comparable, diano affinché il mondo finanziario possa valutare le aziende non più soltanto sugli elementi di carattere economico, quindi costi, ricavi, utili, con una visione prospettica e quindi vedere qual è la capacità di essere resilienti e di creare valore nel futuro di queste aziende. Grazie! 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 Grazie!